Amanti della tecnologia e non, quante volte vi è capitato di entrare nel panico più totale non sapendo orientarvi nella giungla londinese? Niente paura! In questo mio video vi consiglierò le 10 migliori app da scaricare appena sarete arrivati a Londra. In questo modo sarete preparati al meglio per affrontare la vostra vita londinese. Sarà molto più facile per voi trovare dei ristoranti, dei pub, dei posti strafighi dove passare il vostro tempo. Però mi raccomando ragazzi fate estremamente attenzione ai vostri dati di roaming se venite in vacanza in Inghilterra, potrebbero essere salatissimi. Quindi vi consiglio vivamente di scaricare le app che vi sto per suggerire o quando state in Italia o quando arriverete in Inghilterra sfruttando magari qualche wifi dell'albergo o di qualche ristorante. Numero 1. London City Tour Guide. Quest'utilissima app la troverete sia su Android che su Apple. Potrete trovare un sacco di informazioni sulla città di Londra anche non essendo connessi alla rete internet. Troverete un sacco di informazioni utili non solo da un punto di vista turistico ma anche prettamente pratico come per esempio la stazione di polizia più vicino, le farmacie di turno aperte e tanto tanto altro ancora. 2. Santander Cycle. Abilitando la geolocalizzazione attraverso questa utile app riuscirete a trovare il parcheggio delle biciclette più vicino. Numero 3. Addison Lee Carpucci. Magari vi capiterà di stare nel centro di Londra dopo aver fatto una serata di ballore e di feste sfrenate e ovviamente la tube sarà chiusa e magari vi scoccerete di prendere un bus. Con quest'app quindi potrete prenotare il vostro autista personale e potrete pagare sia in contanti che con carta di credito. 4. City Mapper Londra. Questa è la bibbia di ogni viaggiatore londinese. Un must. È un'app aggiornata minuto per minuto. Include dettagli sulle interruzioni delle linee, addirittura con i tariffari dei tassi e questa è una cosa molto importante. In questo modo magari eviterete che qualcuno faccia un po' il furbetto. Inoltre potrete vedere anche qual è il bus più vicino a voi e addirittura quante calorie spendete camminando a piedi. 5. Museum of London Street Museum. Questa è una figata. In pratica girando per Londra se utilizzerete questa mappa e farete una foto a un determinato luogo o per esempio ad una piazza potrete vedere attraverso la foto scattata come era 100 anni fa per esempio. In questo modo vi farete un trip mentale viaggiando indietro nel tempo. 6. MBN e Teams Clip. Quest'app vi eviterà file inutili e botteghini e carte da stampare. Il vostro ticket poi sarà scannerizzato da un membro dell'equipaggio direttamente sul vostro cellulare. 7. Riverside London. A Lumber Bridge, a Tower Bridge. Esplorate il cuore culturale di Londra. Questa app include una vastissima lista di ristoranti e di eventi che si terranno a Londra. 8. Regent Street. Questa app vi aiuterà a personalizzare il vostro shopping in una delle vie principali di Londra. Potrete ottenere degli inviti segreti addirittura anche dall'Apple Store che contengono ovviamente un sacco di scontisti. 9. Street Art London. Vuoi trovare il tuo Bansky più vicino? Quest'app vi permetterà di giungere nei luoghi di street art più famosi di Londra. È una grande banca dati dove anche tu potrai trovare il tuo artista preferito con tutte le sue opere. 10. Currency Convert. Diciamo è l'app più essenziale in assoluto per chi viene a Londra e non ha dimestichezza con i soldini. Avrai la possibilità di convertire i tuoi soldi in oltre 70 valute. Disponibile sia per Apple che per Android. Lo so benissimo che questa è un'applicazione banale, che sia chiaro. Ma è altrettanto vero che ho conosciuto un sacco di persone che ancora non sanno esattamente quanto è il tasso di cambio costante. Quindi fanno confusione e stanno ancora uti e brellire. Se ti è piaciuto il mio video e pensi che io ti abbia aiutato almeno un po', metti un bel pollice in su, metti mi piace o altrimenti attenzione alle coliche renali.